Attenzione, in questo video tratteremo il tema dei DCA, ovvero dei disturbi del comportamento alimentare. Se sei sensibile a questa tematica o richiedi che affrontarla potrebbe crearti disagio, ti consigliamo di fermarti qui. Ricorda che, se ti trovi in difficoltà, puoi rivolgerti a un professionista e chiedergli supporto. Abbi cura di te! Benvenuti e benvenuti a Crime Out, casi di cronaca nera raccontati da persone autistiche. Ciao, io sono Silvia. Ciao, io sono Sara. Ciao, io sono Carlotta. Ed eccoci alla seconda parte del caso di Marco Mariolini. La puntata precedente era terminata con, come ci suggerisce Sara, un cliffhanger, ovvero un momento particolarmente significante e topico della storia che sembrava comunque una storia conclusa e invece non era per niente. Conclusa bene, peraltro. Sì, ci fa un recap, Carlotta. È stata lei a proporci di parlare di questo caso e di proporsi in prima persona per raccontarlo e noi molto piacevolmente abbiamo accolto questa sua proposta ed eccoci qua. Intanto ringrazio ancora Carlotta e lascio la parola per recap e continuo di questa storia che ve lo devo dire. Quando abbiamo registrato, abbiamo finito di registrare la prima puntata, io ho avuto una notte pessima. Chissà come mai. Una pessima proprio. Ti immagino, ti immagino. Ecco, quindi ecco, trigger warning che metteremo, che avrete già sentito probabilmente all'inizio, ancora più grosso, quindi se non siete tranquilli, pensateci. Ok, vai Carlotta. Ok, allora ci siamo lasciate appunto la volta scorsa con una scena abbastanza trucida di una donna disperata lasciata svestita accanto a un letto. Quel letto addormentato c'è il suo compagno. Lei, presa dallo sconforto, dalla paura, dalla voglia di libertà, prenderà un martello e darà svariati colpi in testa al suo compagno che è Marco Mariolini. Diciamo la scorsa volta che sarebbe stato carino se questa storia finisse con una donna che si libera, anche se in maniera così atroce, dal suo aguzzino, in realtà Marco Mariolini finirà in coma. Esatto, sembrava Santa Morina, invece è la storia di Marco Mariolini. Esatto, il riferimento ricorda quello, sì. Possiamo ricollegarci a quello che diciamo l'altra volta con la parte dell'intervista con la Leosini, con la Santa Leosini? Sì, quindi adesso ascolteremo la voce, quindi il racconto della serata, diciamo, chiamiamola degli gnocchi, dalla voce viva di Marco Mariolini. Letteralmente ha inventato, bevendo questi gnocchi, poi frangugiandoli. Io ho cercato dove stai facendo. Lo sai che poi un piatto di gnocchi ti costa una settimana di ulteriori sacrifici, anziché poterti permettere, con poco, ti permetti, sei costretto ad iniziare questi discorsi qua. Per cui, a un certo punto, visto che non la smetteva, ha cominciato a scuotere, ad arrabbiarmi, no? Al ristorante. Al ristorante. Siccome volevo assolutamente strappargli con il piatto di gnocchi dalle mani, lei si è alzata col piatto in mano, è andata a rifugarsi addirittura nella cucina del ristorante. E scappava per lo stoppia in piedi per il ristorante, tra la gente, ho seduto ai tavoli, e i piedi mi mancava. E io vado a rifugarsi. Che senta? L'ho seguita in cucina, e li ho portato via il piatto quando ormai era quasi finito, quindi metà se li erano mangiati, perlomeno. E sono riuscito a riportarla estremiando al tavolo, no? E dicendo che è un po' di piccolore, e a un certo punto è anche mollato un ceffone, proprio un sonoro, che si sono voltati tutti quelli che c'erano. Scusate, ci sono troppe cose che sto notando, e ho dovuto interrompere. Io mi sto rendendo conto di quanto ancora lui provi rabbia nel non essere riuscito a controllare quella situazione. Sì. Lui non ha risolto nulla, stando lì dentro, non ha ancora rabbia perché non è riuscito a fermarla dal mangiare gli gnocchi, cioè addirittura specifica se ne era mangiati già metà, cioè si ricorda questa cosa, che per lui è assolutamente inconcepibile. Specificando anche il fatto che lei sapeva benissimo cosa sarebbe andato incontro dopo, cioè ci sarebbe stata comunque una punizione, lei sapeva benissimo cosa sarebbe successo più o meno, secondo me. Mi ha fatto abbastanza cringiare il fatto che abbia detto quel poco che ti puoi permettere, possiamo volgerlo, quel poco che ti permetto. Mi fa ridere che nella sua testa sia imbarazzante che gli altri abbiano visto Monica mangiare in un ristorante, cioè per lui è umiliante questo, che lei mangiava. Che lei mangiava perché gli stava dimostrando pubblicamente che lui non aveva il controllo su di lei. Sì, ma capisci quanto è distorta, cosa fa una persona che va al ristorante e mangia? È ovvio, nessuno ci bada, lui ci bada, lui ci bada e per lui è umiliante che gli altri guardino lei che fa una cosa naturale come mangiare in un ristorante. Questo a livello di, come possiamo definirlo? Possiamo dire la follia, dai. Sì. Non diciamo mai, ma lo possiamo dire stasera. Diciamo distorsione, vogliamo essere poetiche, distorsione. Vogliamo essere, ok, va bene. E anche quanto è grottesco il fatto che lui andasse al ristorante con una persona a cui impediva di mangiare, cioè proprio una cosa... Questo è sadismo proprio, sadismo è potere alla fine, quindi è proprio sadismo puro, puro. C'è anche un, secondo me, un tentativo di capire fin dove quella persona può arrivare, quale è il livello di sopportazione, quale è il livello di controllo che ha avuto quella persona. Testare i limiti, esattamente. Perché se no non me lo spiego in altro modo, comunque secondo me follia sì, ma anche è molto ponderata, comunque è super controllante. Sì, sì, la sua è molto lucida. È lucidissima. Scusate se ho interrotto il video, ma continuiamo. Lei non l'ha fatto, non ha detto bene, ha preso lo schiaffo e è rimasta lì, rigida, molto dignitosamente rigida, taciturna, siamo tornati a casa. Dignitosamente rigida, però, niente, volevo sottolinearlo. Rigida, eh. Dignitosamente rigida. Poi, quella sera lì, l'ho fatta spogliare Buda per punirla in qualche modo, lo sgarro che secondo me mi aveva fatto. E ho detto, adesso te ne stai al freddo tutta la notte, guai a te se ti vesti. Due minuti dopo mi sono addormentato e quindi, mentre dormivo, mi ha preso a martellare. Non ho mai fatto una colpa di quel gesto a Monica, non le ho mai portato nessun rancore per quel gesto lì e comunque sia, secondo me, aveva agito per legittima spesa. Diciamo che, come conseguenza di questo gesto terribile, Monica viene indagata per tentato omicidio e trascorre un anno agli arresti domiciliari a casa della nonna, a Domodoscono. Va bene tagliare qui, cioè va bene stoppare qui un attimo? Va bene, ho una nota che mi sembra molto meno arrabbiato per essersi preso le martellate che non per il piatto degli gnocchi. Ma vero, anche io ho avuto la stessa impressione. È come se fosse parte del gioco. Per gli gnocchi non c'è perdono, per le martellate sì, lo dice assolutamente. Esatto, per le martellate c'è un perdono, però fa tutto parte di questo personaggio, cioè fa tutto parte del suo progetto fondamentalmente, cioè di quello che è poi lui. Il ligno, no, ma le martellate sì, va bene. Quindi, in sostanza, lui finisce in coma, quanto rimane in coma? Finisce in coma e Monica, spaventatissima, ovviamente chiama subito l'ambulanza e chiama subito i carabinieri per autodenunciarsi immediatamente. Come diceva l'Alesina, appunto, Monica si beccherà un anno di domiciliari. Ovviamente con delle attenuanti, visto la situazione in cui versava Monica e anche perché Mariolini, ripresosi dal coma, metterà una buona parola verso Monica, al giudice, a cui ovviamente si verrà un pochino ridotta la pena. Viene portata a Domodossola. Perché Monica non poteva andare in prigione, scusa, non poteva controllarla. Infatti, meglio che andasse domiciliari a quel punto, però a Domodossola. Quindi comunque abbastanza lontano da lui. Monica, dalla nonna, verrà curata e tenuta un po' su, non lo so, tentavano di non farle fare delle telefonate, tentavano di non farle ricevere delle lettere, quindi con veramente seria difficoltà. Il trauma che aveva vissuto sicuramente era terribile. La disintossicazione poi da una relazione così tossica, così abusante, penso che sia dura, penso che sia stata terribile, penso che lo sia sempre da che mondo è mondo, purtroppo. Però l'ambiente genitoriale, diciamo, che poteva essere anche una manna per lei, sia per curare i disturbi alimentari, sia per curare i disturbi ossessivi compulsivi e anche la dipendenza da Mariolini. Sì. Mariolini, invece, si beccherà circonvenzione di incapace, violenza privata e ricettazione. Per via, penso, non ho trovato ulteriori... Lei è legata sul lavoro, giusto? Penso, legata sul lavoro, ma stavo pensando che fosse per i 76 milioni di lire che aveva preso da Monica e i due appartamenti che avevano venduto. Vabbè, se poi, diciamo, i soldi che prendeva da Monica li usava per i suoi affari di antiquario e robe varie, cioè, questo è plausibile, diciamo. Sì. Magari era collegato il tutto, perché è follow the money. Circonvenzione di incapace, però, è pesante, perché è una di quelle cose che è difficilissimo riuscire a provare in tribunale, è difficilissimo riuscire a vincere una causa del genere. Cioè, vabbè, non sono esperta di legge, ma penso che sia uno dei pochi casi in cui, diciamo, l'accuso è riuscita a portarla a casa. Credo che i parenti di Monica si siano battuti parecchio per questa cosa qua. Sì, è difficile, è difficile. È anche vero, sì, che lei, essendo palesemente denutrita, perché sicuramente Monica era una persona intelligente, per quello anche poteva diventare difficile convincere il giudice e la giuria della sua incapacità, per quanto temporanea, ma poteva essere forse bene da questo punto di vista, il fatto che fosse così denutrita, perché effettivamente è scientificamente provato che in assenza di nutrienti anche il cervello non funziona bene. Alcuni gesti che fa, anche l'aggressione in realtà, avranno avuto sicuramente degli attenuanti anche per questo, non ragioni, non ragioni bene, non sei in te. Pensavo, per esempio, al famo più citato reato di plagio che è stato, diciamo, eliminato dalla legislazione. Circonvenzione di incapace è qualcosa di simile, però ovviamente è la parte, una delle due parti, deve avere una minorata capacità di intendere, e lì probabilmente appunto la denutrizione e il trauma possono intaccare assolutamente le funzioni anche cognitive delle persone. Certo, sì. Anche il trauma, soprattutto il trauma, però poi collegato alla denutrizione, probabilmente era entrata in un loop anche lei, poverina, e anche lì ricorda molto Santa Morina, infatti poi chiama subito l'ambulanza, quindi si costituisce immediatamente, ma era l'unica maniera per metterlo fuori uso, per momentaneamente, e poter chiedere aiuto. Era talmente tale il controllo e la paura di lei che solo con un gesto così poteva metterlo fuori uso, fuori gioco. Ci pensi che tra le due è la storia di Santa Morina, quella con l'happy ending, tristezza? E anche perché lui ci teneva sempre a ripeterle, se mi vuoi fuori dalla tua vita, se vuoi liberarti di me, non devi fare altro che uccidermi. Cioè, sentire un mantra costantemente di questo tipo, a un certo punto una persona fragile, una persona che in quel momento magari stava prendendo dei medicinali, era denutrita, era soprafatta da paura, terrore, secondo me nella sua testa era veramente l'unica soluzione, aveva ragione lui. Cioè, se io non ti ho, non ti avrà nessuno, perché o mi uccidi tu o ti uccido io. Era questa la... Ma infatti, al di là del fatto che lei non ragionasse lucidamente, però in realtà questo era corretto. I fatti, tristemente, lo dimostrano. Sì. Monica comunque inizia, diciamo, a riprendersi, grazie alla famiglia, mentre Marco si sente solo, si sente disperato, sente di aver perso l'unica donna, detta sua, di cui era stato innamorato. Ma se dobbiamo fare un commento così a caldo, abbiamo capito che fosse praticamente l'unica donna della sua vita che fosse riuscito un minimo a plasmare come voleva lui. Insomma, non era mai stata una vera anoressica da quello che diceva lui. Insomma, era una persona abbastanza fragile che a lui faceva molto comodo per quello che è lui. Nell'anno in cui lei è stata a domiciliare, loro si sono sentiti? Si sono sentiti tramite telefono. Infatti, se volete, manderemo anche un audio in cui lo dice lui, lo sentiamo dalla sua voce. Ma è il momento in cui lui inizia a scrivere il suo libro. Questo momento in cui gli mancava tantissimo è il momento in cui lui inizia a scrivere. Ah, ok. Dice che si sta rivelando al mondo. Quindi si inizia a dichiarare come perverso, come incompreso, come mostro. Fondamentalmente che è come un poveretto senza speranza di guarigione. Si definirà, come abbiamo già detto forse anche la volta scorsa, in un buco nero della psichiatria in cui nessuno, nessuno psichiatra, nessun dottore ha intenzione di cercare delle soluzioni. Per una persona come lui, un anoressofilo, così come per pedofili e in generale le persone che hanno delle parafilie così gravi, così importanti. Io ho una domanda. Se poi dichiara quello che hai appena detto, vuol dire che comunque dei giri nei reparti di psichiatria o da psichiatra e psicologi ne ha visti? È documentato? Oppure? Giri da psicologi e psichiatri? Lui dice di averne fatti anche parecchi, sia da solo, sia con l'ex moglie, con Lucia. Però non ho trovato niente a riguardo di preciso, a parte una perizia psichiatrica durante il processo. E infatti dal libro, come dicevamo l'altra volta, molte cose secondo me sono frutto un pochino della sua immaginazione o di come lui ha interpretato certe dinamiche, certe scene. Sì, anche secondo me. Vi ricordate che l'altra volta avevamo detto di una scena fra lui e lo psicanalista di coppia in cui lui sbatte la porta andando via e lo psicologo dice alla moglie ma perché lei non fa quello che dice suo marito? Perché lei non ha fatto quello che dice suo marito? Ovviamente, capito, diciamo bene che non possiamo badarci su quello che dice lui, su quello che scrive lui. Poi si sa che i narcisisti, narcisista è riduttivo, però comunque certe personalità sanno come presentarsi anche come, tra virgolette, tregare uno psicologo, uno psicoterapeuta. Non solo questo, se poi tu immagini che lui ha scritto, io adesso non so perché abbia scritto questo libro oggettivamente, è un altro dei misteri che non so se riusciremo mai a svelare. Vabbè, di fondo l'abbiamo detto anche l'altro episodio, è un narcisista. Sì, esatto, questo è il punto di partenza. Da questo punto di partenza scrivere un libro in cui dici io so di essere malato ma nessuno mi aiuta, nessuno è capace di aiutarmi. Susciti nel lettore, nel potenziale lettore un minimo di empatia perché dici, poverino, però lui lo sa e è solo che nessuno lo aiuta e quindi scarica di nuovo la colpa, la responsabilità su qualcun altro. Cioè, io sì, sono un problema ma nessuno mi ha aiutato, io ho chiesto aiuto e nessuno mi ha aiutato. Sì. Quindi continua a essere l'eroe della sua storia. Sì, 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 perché lui continua a definirsi anche una sorta di vittima sia carnefice che vittima però della società, del sistema, della psichiatria, insomma. Sì, però si fa una riduccia del genere. Ma come in tutti i percorsi di cura non è che arriva lo specialista e con uno schiacco di dita sei guarito e stai bene per sempre. Cioè, lo sappiamo che non è così, che comunque una parte attiva, cioè lui, questo l'abbiamo detto, comunque è lucido e consapevole, poi c'è una parte un po' più nascosta quando appunto lui comunque scarica. Sembra che non è mai lui padrone delle sue azioni e non è colpa sua se è nato così. Insomma, un po' è... se ha questi pensieri. Esatto, lo ripete parecchie volte. E poi non andare un po' più a fondo su questa cosa, nel senso racconti le tue esperienze in che cosa non ti sei sentito capito. Detta così sembra appunto un povero me. Cioè, passare un po' anche per vittima. Esatto, secondo me da quello che ho... cioè, mi è sembrato dal libro e quello che scrive voleva anche una soluzione molto veloce per la sua parafilia. Cioè, lui voleva essere curato, sì, però senza fare troppo lavoro. Quello che chiede a una delle sue psicologhe dell'evirazione è emblematico. Nel senso che... Ma comunque con l'evirazione mi scusi, risolvo tutti i miei problemi? Eh no, certo che no. Non funziona proprio così. Cioè, io francamente se gli avessi detto sì, prego signore, venga. Glielo taglio adesso. Voglio proprio vedere se avrebbe detto di sì. Francamente non ci credo molto. Sì, da questo libro che è Il cacciatore di Anoressi. Sì. È un libro nel quale la perversione è un buco nero nella psichiatria. È un libro autobiografico. Lei scrive Avrei fatto qualsiasi cosa per riavere Barbara. Avrei ucciso chiunque, parente o familiare me lo avessi intedito. Avrei ucciso anche lei se non avessi accettato di ritornare con me. Naturalmente Barbara era monica. È stata un'anticipazione sinistra poi. È stato poi incontrato dalla parte civile per dichiararlo come una cronaca di un delitto annunciato. Di una morte annunciata. Ecco. Poi è l'avvocato che dice la sua. Se volete sentirlo possiamo anche mandarlo su un pochi secondi anche quello. Io credo che questo omicidio davvero sia stato un omicidio annunciato e avrebbe potuto essere evitato e su questo non ho nessun problema a dire che sono completamente d'accordo con quello che hanno sostenuto i difensori dei parenti di Monica Calotti. Perché davvero c'erano parecchi elementi che dovevano far riflettere le due procure e soprattutto quella di Brescia. Ho sentito dire perché sono stati svolti numerosi esposti numerose appelli da parte dei familiari della Calotti. Il Mariolini aveva scritto anche un libro in cui in qualche modo prefigurava quello che poi è accaduto. Quindi c'è stata poca attenzione probabilmente non si è ritenuto il Mariolini capace di poter compiere quello che invece si è. Quindi è sempre colpa degli altri insomma. Sempre colpa degli altri. Sì abbiamo comunque sempre Mariolini vittima del sistema e della società e della psichiatria. vittima anche di chi poi ha letto il libro di inquirenti e vari che non hanno fermato. Il 96 il libro diventa un caso perché alla presentazione della casa editrice che è la Edicom che a quanto pare è una casa editrice che si occupa della pubblicazione di testi penso di ingegneri di costruzioni adesso non ha scusatemi non ho precisamente la definizione Si occupa di tutt'altro proprio di tutt'altro di tutt'altro di romanzi ma non di di narrazioni No 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 assolutamente non di autobiografie né di romanzi vi fanno fare una conferenza a cui parteciparono anche dei carabinieri sia in borghese presumo ma nonostante i crimini svelati sia nella conferenza che nel libro nessuno prenderà mai provvedimenti Allora tu non puoi fermare qualcuno che non ha fatto ancora niente anche se è assurdo Come minority report Sì Mano di report Lo psicoreato Sì cioè sulla fiducia io posso capire il fatto che ci fossero dei carabinieri è già tutto quello che potevano fare gli inquirenti cioè ti tengo d'occhio però finché tu scrivi un romanzo ipotetico in cui dici io potrei anche uccidere non ti potrò mai portare in processo per quello Se lo scrivi in un libro no è vero però se tu al tuo terapeuta psicologo psicoterapeuta dichiari e dici che o vuoi farla finita o vuoi far finita la vita di qualcun altro è tenuto ad informare cioè a rendere pubblica questa informazione qualora se ne ravvisasse va bene ma questo è ma questo è sensato perché tu lo stai dicendo in un contesto formale mentre se io lo scrivo in un libro che non si capisce neanche bene che cosa sia se sia fiction che forse non era mai andato che non si era mai fatto curare ma certo ma certo capito che dice così accusa e poi se le stesse cose del libro le fosse andata a dire a uno psichiatra o psicoterapeuta dicendo io ho sentimenti omicidi nei confronti di questa persona mi aiuti e si può fare qualcosa insomma più che scriverlo sul libro ecco ha più potere di far qualcosa però lui fa una conferenza visto che ci partecipano anche dei carabinieri presumo che fosse comunque attenzionato cioè le denunce di ancora non c'era lo stalking però le denunce di chiamate minacce minacce di omicidio di suicidio i parenti di Monica le ricevevano costantemente lui era stalker era comunque attenzionato quindi che non si sia potuto fare niente perché gli altri reati descritti nel libro erano ormai prescritti e nessuno avesse fatto denuncia a questo penso che sia vero perché ormai era passato tanto tempo e nessuno ha mai sporto denuncia nei suoi confronti quindi boh è comunque strano cioè comunque fa fa pensare che non si sia fatto niente anche perché lui scrive ogni donna che sia magrissima può diventare una mia preda con un passamontagna e un paio di guanti di pelle aspettavo nel sottoscala di casa sua che rientrasse cioè leggi una frase del genere in un libro di una persona che sta al momento facendo una conferenza a me vengono i brividi solo a pensare sì sì è terrificante in questa presentazione lui disse che era autobiografico ripetete tutto ciò non sai com'è andata cioè gli fecero delle domande dirette su questo non ne ho idea non ho trovato niente riguardo se qualcuno l'abbia fermato per questi due domande una firma al libro non lo so cioè il problema è che comunque anche adesso lui naturalmente la fa facile dicendo avrebbero dovuto fermarmi ma per quelli che erano gli istituti attivi al tempo anche se avessero voluto punirlo per le minacce che faceva sarebbe stata una cosa veramente blanda perché non non si poteva certo chiuderlo in carcere perché anche se minacciava cose orribili non si può non si poteva adesso le cose sono un po' cambiate ma vediamo che comunque nonostante tutto non è che le leggi tutelino chissà che bene le vittime figurarsi allora beh adesso ci sarebbero stati social immaginatevelo adesso sui social va bene infatti è una domanda che poi vi farò è una domanda che vorrei farvi non era non era guardato ovviamente si capisce quindi si palesa come un possibile serial killer un possibile stuporatorio seriale e chiede di essere di essere fermato nel successivo anno un anno e mezzo Marco ossessionerà Monica costantemente ogni giorno che ancora ovviamente ha domodossola e sembrerebbe in lentissima ma in ripresa continua a non a non darsi pace a non accettare il suo allontanamento e qui ci si poteva anche ci si può anche chiedere anche se sembrerebbe una domanda stupida e superficiale i parenti di lei perché fino a quel momento fino alle drammatiche botte in testa a Mariolini i parenti non sono mai stati presi in causa e il fatto è che Mariolini da bravo abusante e manipolatore aveva vietato assolutamente a Monica di chiamare fratelli, sorelle mamma mamma e papà non poteva assolutamente parlare della sua situazione di come stava se stava continuando gli studi era una persona praticamente sparita sparita nel nulla e non avevano modo di rintracciarla tipico come spesso accade allontanamento da affetti famiglia amici non credo che avesse Monica più nessun legame i parenti comunque lo denunciano iniziano a registrare tutte le telefonate meno male però nonostante nonostante questo nonostante vengono operati gli inquirenti cade e finisce tutto sempre nel nulla lui è sempre più aggressivo oppure piange di nuovo aggressivo di nuovo tanto amore e poi di nuovo aggressivo e poi piange minaccia il suicidio o minaccia Monica di ucciderla costantemente in situazioni del genere il no contact anche quello salva la vita ma letteralmente salva la vita è cronaca di tutti i giorni oramai è dimostrazione comunque Monica viveva queste sue insistenze come un'ossessione tant'è che lei riporta a cosa porta poi questo suo ossessionare Monica con telefonate dopo un anno e mezzo da quando l'ho lasciato e ho fatto e ho rinnovato delle minacce in tante è grave ho detto Monica ascolta io ho fatto il possibile per accettare la tua volontà ma non ce la fai adesso tu torni con me l'ho detto imperativamente torni con me perché se no io ti ammazzo poi se non ammazzo te vengo là alla domodorsa e faccio strada lei com'è che ha risolto il problema non cedendo al mio ritatto perché ho saputo quando ero già in tarte che lei ha tentato di suicidarsi madonna terribile cioè sembra che ripete le parole probabilmente con lo stesso trono con cui le ha dette a lei certo sì sì ed è agghiacciante è agghiacciante cioè veramente questo è uno dei casi se non fosse stato per Carlotta non so se avrei mai trovato il coraggio di trattarlo è terribile anche l'altra anche la scorsa volta dicevamo la spocchia sì l'imparativo costante è incredibile questo uomo sì poi cioè sei davanti a telecamera della RAI cioè non ti rendi conto o forse si rende conto e lui vuole lo scioccare ad essere una persona unica al mondo in qualche maniera nel suo essere narci cerco di trovarci una cosa un po' perversa però se no perché ti conci così per fare l'intervista può essere anche un motivo di orgoglio per lui questo certo certo sì sì non è passato inosservato questo è poco ma sicuro ed è probabilmente quello che voleva il suo imparativo funziona perché Monica cede nel 1998 a luglio precisamente e quanti anni dopo la martellata il 1998 la martellata mi pare sia nel 96 il libro sia nel 97 quindi diciamo un anno dopo alla fine dei domiciliari lei cede sia presumo per buon cuore e per paura che davvero lui si faccia del male o non lo so per paura di ripercussioni nei confronti della famiglia beh lui lo dice io minacciavo cioè hai detto anche tu minacciavo suicidio eccetera quindi anche lì oramai certe informazioni e certi consigli sono sempre più diffusi e questo è un bene ma noi continuiamo a diffonderli non accettate mai un ultimo appuntamento esatto esatto poi vabbè noi perché sappiamo come va a finire adesso lo saprete lo conoscerete però mai ti andresti a immaginare che in quella situazione ok perché non era non accettare mai l'ultimo appuntamento cerca di vederti in un luogo pubblico però appunto adesso ci racconterai nella maggior parte dei casi è vero accetti l'ultimo appuntamento perché non puoi pensare che la persona che ti sta chiedendo l'ultimo appuntamento possa arrivare a tanto invece le prove sono tante l'ultimo appuntamento all'ultimo appuntamento non ci si dovrebbe mai palesare comunque Monica si presenta ma con ma ovviamente in un luogo pubblico siamo a luglio l'appuntamento sarà sarà al lago quindi fa caldo e c'è tanta gente luogo è pubblico all'aperto in piena estate si l'ha pensata bene cioè sarebbe stato più saggio non farlo però volendolo fare ha cercato la situazione più sicura non può pensare bambini insomma è luglio quindi presumo ci fosse stata anche parecchia gente là intorno peccato che però Marco in macchina abbia coltelli catene e degli strumenti pesanti quale sarebbe stata la vostra normalità sarebbe accettata a fare mangiare gli gnocchi e i bignè oppure l'avrebbe costretta nuovamente affamarsi a due secondi penso che il punto sì perché io sì cosa l'avrei costretta affamarsi perché io mi sarebbe molto aspetti era condannato ma aspetti Monica quella donna siamo mati di cittadina io posso perlomeno volermi bene a un certo punto uno guarda il tericolo se non torna con me siamo matati torna a casa è meglio che mazzo lei non mi ha lasciato alternative vedi è sempre colpa degli altri è lei che non mi ha lasciato la Leosini sta chiedendo che cosa aveva intenzione di fare Marco se Monica avesse accettato quello che lui chiedeva cioè ci vediamo torni con me torniamo insieme a casa insomma però è sempre colpa sì questa è terribile questa frase la mandiamo è sempre colpa di Monica anche in questo caso ma lui ha anche detto sì lui racconta anche di come è riuscito a farla a farla accettare questo quest'ultimo appuntamento esatto possiamo sentirlo come è riuscita a convincere Monica dopo tanti rifiuti a incontro avevo intenzione di studiare comunicavo a lei queste mie intenzioni vedevo che lei per quanto mi piacesse me l'avrebbe anche lasciato fare ma non si sarebbe piegata comunque a vivere con me la Monica credeva veramente che lei non lo so se lo chiede però se anche l'avessi fatto me l'avrebbe lasciato fare e io comunque al giorno punto se sono costretto a suicidarmi è come se se fosse Monica uccidere se voglio salvare la mia pelle e la sua non ci sono alternativa anche ora che ho all'iniziativa le varie possibilità affettanti sui tanti casi non la trovo io in tempo del mio arresto ho dichiarato che se dovessi tornare indietro sarei costretto a farlo di nuovo mi sembrava importante che sentire anche questa solito schema addirittura se io mi uccido è colpa di Monica esatto sì no se io se io mi uccido cioè se io mi uccido è come se è come se lei mi uccidesse sì mi ha ucciso lei ma siccome io non voglio morire allora uccido lei sì però è lei che mi ha portato a questo quello che continua a dire che io trovo insopportabile è io ho fatto tutto quello che potevo fare non potevo fare altro non avevo altra scelta non mi dava alternativa sì e poi a me ha sconvolto io ragione ancora ora quando sono qua dentro ci ho pensato a 360 gradi no che è 360 gradi della tua testa se in quei giri sei sempre lì però io non credo sia recuperabile posso dire esatto esatto è talmente stavo facendo la stessa cosa è talmente purtroppo messo sì perché da come parla sembra una persona che sulle cose va in overthinking ovviamente perché per avere così si è costruito una sua logica e quello è il filtro ce l'abbiamo tutti i nostri principi ci formiamo le nostre logiche eccetera eccetera però qua siamo in un loop veramente malato quindi Marco prova a persuaderla quindi si vedono intorno c'è gente fa caldo insomma la gente bambini gente giocano giocano al lago scendono descendono dall'auto posizionano un telo nell'erbetta e Marco inizia a persuaderla con i suoi modi di parlare insieme con sempre più esistenza dice che deve amarlo deve tornare a casa con lui inizia anche un po' a stratonarla lei inizia a lamentarsi cambia posizione prova a rientrare in auto lui la ferra possiamo anche mettere dei trigger warning perché lei finge di assecondarlo si divincola chiama aiuto ma dice a Marco si ok torniamo insieme torniamo a casa insieme come lui molla un po' la presa penso braccia spalle lei si divincola inizia a correre chiedendo aiuto a chi era lì ai passanti ma nessuno in quel momento reagisce nessuno sembra fare niente la bracca immediatamente tira fuori il coltello che aveva dentro l'asciugamano che avevano messo nell'erbetta e la pugnala 22 volte che non sono poche che non sono poche infatti penso che siano tante anche da dare 22 volte nel corpo di una persona ho parlato anche di overkilling insomma recentemente dalle ultime cose che leggevo i passanti comunque chiamano i soccorsi ma appena arrivano arrivano velocissimi non c'è più nulla da fare Marco si spoglia si toglie la giacca entra nel lago cammina verso il lago entra nel lago e nuota nuota fino a metà i carabinieri all'arrivo chiederanno una barchetta di pescatori una barchetta che era lì e si avvicinano a Marco che è lì che nuota che galleggia galleggia in mezzo al lago dicendo di volersi suicidare in realtà non ci ha mai provato non si è neanche mai tuffato sott'acqua lo recuperano dal mezzo del lago e lo recuperano definendolo catatonico mi sono voltato subito ho cercato di tapparle la bocca ancora ancora non avevo in mano l'arma ho detto Monica mi guardavo in giro perché dovevo assolutamente evitare l'intervento di estraneo ho detto Monica non urlare non urlare per l'amor di io non ti faccio niente ripreso più forte di prima è veramente fine 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 mi sono voltato è stata un po' di lotta perché io dovevo voltarmi prendere sto volto ma ormai ripeto è come se avesse premuto il grilletto a quel punto non mi restava altro da fare perché ucciderla non mi restava altro da fare lei ha premuto il grilletto che poteva fare certo sempre colpa sua lei non doveva urlare se lei non urlava se non avesse urlato lui lui avrebbe trovato un altro è veramente odioso odioso questa incapacità di assumersi la minima responsabilità la minima non se l'assumerà mai la responsabilità faccio uno spoiler non si assumerà mai la responsabilità negli anni proprio mi sa che la Leusini in questo episodio mi sa che sono i due anni che stava in carcere mi pare di ricordare due anni è un tempo relativamente breve è un tempo relativamente breve però in due anni se pensi di aver sbagliato se non sei un narcisista terribile come penso che sia lui o due pensieri non lo so te li fai al contrario non pensi di avere totalmente ragione non lo so ci sono casi di persone che non si hanno mai pentito sì però fanno la finta di sì voglio dire hanno credito a Izzo lui no capito ma Izzo anche lui è un bel narcisone proprio da manuale perverso è proprio il cattivo prima o poi tratteremo anche questo caso è uno di quei casi che anche lì bisogna armarsi di tanto malox e mettere in conto la notata di incubi e di goccette esatto esatto però allora la domanda è perché Mariolini non fa questo passaggio perché a un certo punto è da pensare come fai a stabilire se la persona che sta affrontando la propria pena e sta affrontando un percorso con un psicologo eccetera 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 possa cioè se si è realmente pentito si si è reso talmente veramente conto di quello che ha fatto cioè c'è comunque un percorso no quindi c'è chi può anche fare la finta perché cioè non la finta però essere più no dimostrarsi più più pentito di quello che è non lo so cioè però alla fine te la giochi perché magari così puoi tenere permessi premio puoi andare a lavorare fuori no si 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 non mi interessa questo perché è talmente ancora cioè dopo è ancora talmente ancora dentro lo dicevamo prima sembra che me lo immagino così nel momento in cui diceva quelle frasi magari ancora più inferocito però lo sguardo che aveva come diceva le parole cioè fa paura fa paura non vuole neanche far la finta di di sembrare riabilitato c'è da dire che secondo me però si hai ragione a interpretare entrambi come narcisisti di colui e Itzo però secondo me Itzo era perfettamente consapevole che quello che lui faceva era male e invece Mariolini è convinto che siano gli altri ad avergli fatto torto ed è da questo loop che lui non riesce ad uscire per cui Itzo poteva tranquillamente far finta di essersi pentito lui lo sapeva di essere lui nel torto Mariolini invece è convinto di avere ragione sì 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 è stata tutta una conseguenza cioè l'omicidio è stata una conseguenza di tutto quello che non è non sono riusciti a fare dagli psicologi fino all'ex moglie e a Monica per lui cioè a secondarlo cioè curarlo e o a secondarlo nei suoi deliri nella sua ossessione nella sua fissazione rimorsi sensi di colpa neanche parlarne se avessi avuto un senso di colpa mi sarei sicuramente suicidato magari non subito ma dopo una settimana dopo un mese e poi avere un senso di colpa significa soprattutto riconoscere o aver preso atto del fatto che c'era un'alternativa io alternative non ne avevo per lei togliere la vita una persona non è un crimine non è un crimine che meriti che meriti comunque il rispetto del rimorso si può dire che è legittimo sicuramente no io penso che se uno arriva a commettere un delitto come ci sono arrivato io non possa essere un crimine io mi sono dichiarato fin dall'inizio materialmente colpevole e non c'è dubbio su questo moralmente e spiritualmente mi sento innocente cioè innocente proprio con formula piena io da un punto di vista morale e spirituale mi sentirei in diritto di avere la piena assoluzione quindi lei è in pace con me stesso sicuro si sono in pace con me stesso boom e questo comunque il punto esatto Izzo può essere diabolico quanto vuoi ma non direbbe mai una cosa del genere ma guardate anche come si muove come è scocciato di dover dire una roba del genere perché per lui è molto logica quello che dice per lui è logico lui moralmente non è colpevole spiritualmente innocente mi ha fatto mi ha fatto sporcare quest'ultima parte non so veramente si commenta da sola diciamo che non possiamo commentarla perché sennò ci buttano giù il canale credo così è venuto un flash a livello di persona proprio che mi terrorizza vabbè lui tantissimo ma anche il ragioniere pizzocolo non scherza aiuto è vero aspetta aiutami a ricordare è vero è sempre un giorno in pretura cioè quel ragioniere che atteneva tutti i video se viziava prostitute era un ragioniere del milanese ah ok una roba terribile anche quella sì magari lo faremo Carlotta se dai tutti io mi accoglio tutti i trucidi però dobbiamo pagarle la terapia alla fine però a tutte mi sa la poverina lei deve farsi il deep dive però non lo so beh io glielo propongo poi ovviamente se se la sente bene non subito ovviamente lasciamo passare un po' di tempo però se può essere quello un caso io lo vorrei raccontare anche se è molto interessante secondo me sì il nostro Marco invece era condannato a 30 anni come ha detto anche lui stesso non si è mai pentito a 30 anni perché a 30 anni perché non ha l'ergastolo sai che non te lo so dire anche perché le perizie psichiatriche non l'hanno dichiarato incapace di intendere e volere e lui si è molto arrabbiato per questa per questa cosa lui voleva voleva assolutamente essere dichiarato incapace proprio per il discorso che facevamo prima del fatto che non si sente curato non si sente inserito in una condizione ottimale psichiatrica ha mandato un sacco di lettere ad avvocati e anche a psicologi per essere periziato come non capace ha fatto lo stalking anche alle psicologi non mi sembra che sei incapace di intendere e volere perché mi sembra capacissimo di perseguire i suoi obiettivi è stato molto arrabbiato stavo cercando così velocemente per capire quali sono le ragioni per cui gli hanno dati i trent'anni in undergastolo adesso naturalmente la pagina non si carica però nell'anteprima a quanto pare invece i giudici comunque devono avere i dati degli attenuanti perché hanno capito che non ci stava proprio tutto con la testa cioè al di là del fatto che ci siano state o meno delle ferizie hanno capito che insomma anche io ho pensato questo che comunque fosse in certo modo schiavo di un'ossessione di questo tipo sì che non fosse pienamente esatto pienamente in sé da questo punto di vista e quindi forse gli è andato il massimo penso che i trent'anni siano il secondo massimo no sì sì no beh ci sta ci sta questo discorso perché lo vediamo anche adesso no cioè abbiamo abbiamo visto con questa puntata in questo caso no il problema è che vuol dire che anche se fra molto tempo anche se fra molto tempo lui uscirà e non è una persona come dicevamo che secondo me si può riprendere come? neanche fra troppo tempo perché è stato incarcerato nel 1998 quindi fra buona condotta e varie secondo me fra un paio d'anni è fuori sì sì infatti perché adesso si trova a Pavia ed è in una struttura anche su una postura protetta psichiatrica Remos lui mi sono sì sì qualcuno è andato anche a intervistarlo e probabilmente ci rimane ha detto praticamente le stesse cose che se uscisse il suo i suoi desideri sia sessuali che le sue le sue fisse le sue fisse non sono cambiate in questi anni ecco quindi abbiamo Luca Delfino 2 qua che gira lui vuole stare vuole essere assolto questa è una roba assurda che ho letto qualche giorno fa vorrebbe essere assolto ma rimanere in galera cioè lui vuole essere assolto moralmente come dicevamo prima cioè lui vuole essere innocente da un certo punto di vista però rimanere in carcere perché sta benissimo di non essere cambiato più rimane il freddo calcolatore manipolatore della di 25 anni fa sì è terribile non so come andrà a finire spero Carlotta stai tua giornata su questo su questa questione sì 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 infatti facci sapere subito sì ho letto delle cose di due giornaliste che sono andate a intervistarlo lui non ha non ha voluto rilasciare niente di nuovo a parte questo che dicevo però scrivono di averlo trovato molto smunto spigoloso quasi anoressico laconico dicono che fissava il vuoto pensante il tempo proprio dilattato per rispondere alle domande insomma come se quasi non fosse molto presente non lo so io mi sono data la spiegazione che dopo qualche anno in carcere lui ha perso 40 chili e la sua spiegazione è stata che senza donne da poter manipolare senza donne lì alla mano ha iniziato a soffrire di anoressia passava le giornate a rifiutare il cibo mangiava una volta ogni due giorni e si abbuffava insomma si abbuffava ogni due giorni dice di aver perso almeno 40 chili beh si vede in realtà anche nell'intervista anche qua nell'intervista non dico magro a livello preoccupante però sicuramente è magro ho trovato questa cosa abbastanza interessante perché ovviamente non avendo sì una materia prima di una donna qui riversare le sue le sue sezioni l'unica cosa che poteva fare è riversare su se stesso e non penso che fosse il suo obiettivo primario perché non era così no però se come lo racconta questa cosa cioè è per lui un'ossessione piuttosto di vedere non potendo farlo in altro modo probabilmente ha fatto in modo di vedere le ossa su di sé ecco che dire non so qualcosa sul romanzo se volete sì insomma sulla teografia la mia opinione è quel che sia assolutamente trascurabile se non se non se non vi interessa non dormire un po' la notte però potrebbe essere potrebbe essere molto interessante dargli dargli un'occhiata soprattutto perché è proprio una palese spiegazione è palesissimo quanto sia assolutamente ego riferito indulgente nel riguardo di qualsiasi comportamento abieto disturbante chiamato la comunità nei confronti delle donne non c'è un minimo riferimento a quanto fosse sbagliato tutto quello che stesse che stava facendo in quel momento sia nei confronti delle svariate ragazze malate di anoressia che non durante la sua vita e ne ha avuto parecchie di ragazze nel corso della sua caccia diciamo che un'amora così visto che si definisce lui cacciatore di anoressiche racconta che avrebbe voluto in questi anni il controllo della totale di Monica la definisce una sua protesi non la definisce dicevamo anche l'altra volta che non la vedeva come un essere umano la vedeva proprio come un oggetto e protesi mi sembra veramente calzante cioè se manca se manca la protesi come come a chi non lo so manca una gamba un braccio è come se lei fosse stata un altro fantasma anche durante tutti questi anni di carcere comunque a lui non passa assolutamente la sua ossessione nei conflitti di Monica le lettere alla fine del libro sono agghiaccianti ha scelto quelle migliori quelle in cui non lo so esprime il suo e il suo amore che io ho difficoltà chiamare amore ma sono lettere che lui ha mandato veramente a lei si pubblica delle lettere che ha mandato veramente a lei ma sono veramente carine non c'è nulla di troppo di troppo terribile penso che quelle che poi le abbia ricevuto sono siano siano terrificanti secondo te non sono veri secondo me sono sono suoi suoi pensieri i suoi tentativi di farsi sembrare anche nel libro più buono di quello che di quello che è è tutta una manipolazione secondo me il libro per rendersi proprio il poverino per rendersi l'innamorato per rendersi quello che non non è riuscito ad avere quello che voleva è terrificante i disegni in questo libro sono presenti anche i suoi disegni nel libro non ci sono i disegni ok quindi quelli che si erano visti sono quindi i disegni reali che lui faceva per Monica si che hanno trovato in casa esatto non sai come sono stati ritrovati li hanno trovati in casa no perché ho fatto delle ricerche non ho assolutamente trovato niente le avrei voluti mandare sono anche quelli molto disturbanti molto molto disturbanti si trovano all'interno dell'intervista della Leosini e da altre parti non ne hanno le trovati vediamo una ricerca su Google se no 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 ti anticipo già non ci sono le avevo cercate anch'io per metterli nell'altro video e meno male direi sì sì ho dovuto prendere quelli che avevano passato che insomma su storie maledette che credo siano cioè ho il timore che siano quelli meno scioccanti sì anche io questo sentore ah ricordiamo chi ci ascolta che solo come podcast che siamo anche su YouTube e in queste puntate ci sono anche degli spezzoni video che mette Sara quindi andiamogli a dargli un po' di visualizzazione anche ai video quindi questa puntata la potete riascoltare è un po' più animata rispetto a schermo fisso ok ok io direi che siamo alla fine ma tu Carlotta che hai preparato questo racconto se hai altro da dire vai pure volevo chiedervi appunto quale impatto quello che diciamo prima quale impatto potrebbe avere in questo momento un caso del genere cioè se con tutti i social media con tutti gli psichiatri psicologi nei talk show diagnosi da non so proprio da da caramelle cioè nel senso che diamo diagnosi online o nei talk show appunto come se fossero dei pacchetti di figurine cosa sarebbe di cosa ci sarebbe di questo caso per me un'agonia mediatica e basta ma a posteriori perché prima secondo me non saremmo riusciti a fare niente lo stesso ok pensate che davvero ci sia un buco nero nella psichiatria che lascia persone con questo tipo di parafilia annullate socialmente cioè proprio non è quello il problema il problema è che persone come lui non cercano davvero l'aiuto cioè lo fanno per dire io ci ho provato ma in realtà come diceva anche Silvia prima non se anche cercano l'aiuto dello psichiatra poi lo mollano perché non gli dà la soluzione prendi la pillola e adesso stai bene esatto per cui non si sarebbe curato lo stesso sarebbe rimasto uguale avrebbe fatto le stesse cose purtroppo le leggi forse avrebbero tamponato un po' ma fino a un certo punto e sarebbe successo comunque io temo quello che è successo la cosa diversa oggi forse sarebbe che dopo sarebbe stato crocifisso di più perché sarebbe stato dato impasto ai social questo è l'unica cosa a parer mio che potrebbe essere diversa oggi ma secondo me io invece più che a crimine già compiuto mi sono chiesta lui oggi con i social da disposizione la sua ricerca sarebbe stata molto più affinata sì lui aveva fatto tramite un giornale tramite i giornali faceva questi annunci Carlotta si cercava donne schelettriche donne magrissime che essendo prima del 2000 internet non era ancora praticamente diffuso a livello infatti anche l'altra volta avevo accennato il fatto che lui sviluppa una sua idea di cosa fossero le di cosa fosse le anoressie e cosa fossero le anoressiche ovviamente non essendoci internet non aveva un quadro veramente completo di questo tipo di disturbi di questo tipo di malattie infatti dalle sue definizioni di anoressia la chiama perversione atipica nel senso che comunque si sviluppa nella pubertà comunque è dovuta a dei traumi nell'infanzia è dovuta a causa della moda dei mass media di tutto quello che la società prese nel tuo corpo una casa insomma e comunque infatti il suo libro è un completo marasma di tentativi di spiegazioni nei suoi confronti nei confronti degli altri che non stanno ormai in insulone in terra però ovviamente senza non aveva sicuramente delle basi infatti mi chiedevo io dove avrebbe pescato e se magari invece che un libro se avesse scritto un post o avesse fatto una pagina o avesse creato un suo proprio canale youtube capito cosa intendo per me sarebbe stato il coperto di non posso dirlo però però magari era già più c'era già più consapevolezza più warning no perché lui avrebbe detto siete voi che non mi capite cioè non lo smuovi uno così che anche in carcere continua a dire io dovrei essere assolto capisci sì però lui all'epoca ha scritto un libro questo libro credo che sia diventato più famoso dopo tutto il fattaccio esatto piuttosto che esatto esatto quante copie potrebbe averlo stampato prima del fattaccio quante copie potevano essercene in circolo ma puoi anche chiederti quante copie sono state comprate perché anche anche se è stato stampato fai mille copie io dubito che abbia avuto un sold out cioè che le abbia vinte ok quindi comunque parliamo di pochi numeri no però con un canale youtube sarebbe stato bannato subito e avrebbe presa ancora più come una persecuzione contro di lui capisci non lo smuovi secondo me non lo so ma non voglio pensarci perché io spero che continuerà a permanere nel Rams lo spero per tutti ma me lo auguro sì me lo auguro veramente adesso vabbè devo fare una brutta battutaccia ma non la faccio però io non potrei essere una sua vittima però è molto difficile riuscire a essere una sua vittima infatti lui è probabilmente disperato perché sa che sarebbe difficilissimo trovarne un'altra così oggi sì che non è solo essere magico anche per lui sono passati degli anni quindi ma lui secondo me è convinto di essere ancora ladone che il punto è che non deve essere solo magra deve essere anche remissiva deve essere manipolabile deve essere controllabile deve essere resistente in ogni caso perché deve riuscire a sopravvivere al regime che gli impone lui dove la trovi? ma non gli capiterà mai più io mi auguro mi auguro perché già una è troppo lo auguriamo ma non puoi escludere del tutto nel senso no infatti anche io sono d'accordo di tenerlo chiuso se non in carcere comunque è una struttura dove sta lì vive lì e non esce diciamo non sfiderei la sorte un'altra volta sicuramente no va bene tu Carlotta volevo concludere con una cosina una solamente una cosa tristina mandò una copia a Monica del libro con la dedica con amore e odio e non sappiamo se Monica l'abbia mai letto e questo è molto triste però è successo ma probabilmente l'ha scritto l'ha scritto a lei non si può escludere che in realtà aveva fatto tutto questo solo per avere un libro da mandare a lei che non gli interessasse in realtà che lo leggesse altra gente se l'avesse mai letto comunque non è servito a non fargli avere l'ultimo appuntamento insomma quindi presumo che non l'abbia letto comunque appunto cover a Monica e veramente pace all'anima sua però appunto quello che avevamo detto l'ultimo appuntamento mai ti aspetti che sei in un luogo pubblico all'aperto d'estate luglio eccetera e poi addirittura ovviamente cioè non addirittura sei messa a urlare giustamente ma lui secondo me sapeva già che l'avremmo ucciso anche secondo me in caso di non ti porti un coltello se no no esatto e secondo me come dicevi tu Sara l'ha fatta cioè per farla per attirarla gli ha dovuto dire di incontrarsi in un posto pubblico ma tanto lui non gli fregava niente perché tanto quello l'avrebbe fatto cioè lui non gli interessava il dopo lui doveva uccidere lei fine perché se no lui nella sua testa la stava vivendo se io non la uccido mi devo suicidare ed è come se lei mi uccidesse e quindi questa cosa no assolutamente non non è concepibile quindi a me cioè non gli interessava nulla del fatto di essere in mezzo alla gente di essere visto subito come interessava nulla no tant'è che non ha non aveva un piano di fuga in realtà perché adesso cioè cosa pensavi di fare buttandoti nel lago o appunto o ti butti per ammazzarti ok ma non l'ha fatto non ha neanche provato a farlo oppure è evidente che è solo un diversivo per ritardare un attimo l'arresto per ritardare e poi voglio vedere nell'acqua se qualcuno ti vuole menare non non è molto facile sì 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 esatto una mini fuga ma senza speranza cioè era ovvio che sarebbe finito certo il gabbio era stra virgolette salvo almeno da chi voleva che l'avrebbe lunciato seduta a stante probabilmente non so io comunque siamo molto lontani dai piani di fuga più geniali che siano mai stati messi in atto da un omicida ecco questo sì sì da quello sì ok abbiamo terminato ipopotamo sì eh sì direi che adesso abbiamo tanta roba che ci accompagnerà stanotte sì un'altra storia della buonanotte grazie a tutti voi che ci avete ascoltato fin qua grazie mille Carlotta quindi sei invitata nuovamente il caso l'abbiamo già deciso quindi è uno super spoiler per tutti e grazie Sara grazie a te Silvia perché lei che monta i video che poi voi vedete su youtube che fa i tagli vari quindi ringraziamo la ringrazio pubblicamente e mamma mia grazie Sara figurarsi e quindi buonanotte alla prossima e ipopotamo a tutti ipopotamo ciao buonanotte ciao ciao grazie a tutti ciao 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 ciao